Ciao a tutti, siamo a Novara e ci troviamo all'esterno della sede dell'azienda Scopeto. Entriamo per conoscere uno dei titolari, Christian Largo, seguiteci. Buongiorno, benvenuti. Benvenuti. Siamo qui nella tua azienda. Oggi è un'azienda molto importante, però tuo padre è iniziato come venditore porta a porta, giusto? Esatto, poi è iniziato come venditore porta a porta, ha creato questa azienda 40 anni fa, lì facciamo il 9 di dicembre, in un piccolo ambiente nel centro di Novara, quindi è iniziato proprio piano piano, quindi una station wagon usata, poi in un furgone, consegnava, fatturava, sopportava un po' tutto lui, poi pian pianino, faticando parecchio, impegnandosi di molto, ha fatto crescere questa azienda. Lui è un socio, poi ormai da 23-24 anni, io e mio fratello siamo andati in azienda, con l'intento subito di farla crescere, farla diventare un'azienda riconosciuta. Io come azioni soprattutto commerciali e mio fratello soprattutto come responsabile di acquisti e con la gestione anche del patrimonio. Oggi ho scoperto che è un'azienda strutturata. Sì, assolutamente. Diciamo che abbiamo avuto le idee chiare fin da subito, quindi volevamo arrivare qua, quindi a creare un'azienda strutturata con dei collaboratori affidabili, con delle massioni ben precise per ognuno di loro, rispondere al meglio alle esigenze dei clienti e lavorare per dare un servizio di eccellenza distributiva di tutti i nostri prodotti. Ecco, a proposito del servizio, per esempio, perché è il vostro vero punto di forza, cioè oltre alla fornitura, quello che veramente fa la differenza tra voi e molti degli altri concorrenti, è proprio il servizio curato nei minimi dettagli. Veloce? Puntuale, preciso il più possibile, quindi assolutamente se io ci vogliamo contraddistinguere in questo. Infatti, diciamo che abbiamo avuto un periodo anche di difficoltà nel 2013, abbiamo capito che probabilmente eravamo un pochino stati qui e per il nostro modo di lavorare potevamo ampliare il nostro raggio d'azione su tutto, sicuramente il nord Italia, distribuendo materiali per i grossi clienti anche in centro e su Italia, avvalendoci dei più bravi corrieri, ma soprattutto del nostro personale che è scelto e qualificato per essere puntuali nei cantieri dei clienti, specializzandosi soprattutto nella fornitura di un pacchetto prodotti molto largo nelle case del riposo e quindi abbiamo 2.500 articoli, i nostri 5.000 metri quasi ricoperti, noi riceviamo gli ordini all'ufficio ordini, noi ne elaboriamo subito, facciamo lavorare il nostro magazzino, abbiamo due magazzini pronti sempre per creare le zone di consegna, i punti di consegna e rispondere poi con la consegna del cantiere a due giorni. La filosofia aziendale, l'ambiente di lavoro, quanto è importante per voi? Vediamo il caciovalina, vediamo la cucina super accorzata per i dipendenti, perché fargli stare così bene all'interno di questo ambiente? Crediamo che il dipendente che sta bene, il cliente che lavora in un ambiente pulito, confortevole, con tutto ciò che serve a disposizione, mette alle condizioni di dare il massimo durante la giornata, perché è quello che chiediamo noi, perché i nostri clienti sono coccolati dal nostro servizio e quindi se il dipendente viene messo in condizione di lavorare in un ambiente ideale, il nostro cliente ne ha i massimi benefici e noi continuiamo ad avanti. Allora, come è strutturata l'azienda? L'azienda è ben strutturata ora, io mi occupo della parte commerciale, sono il responsabile della parte commerciale, sono affiancato da vari collaboratori che tutti i giorni rispondono in maniera pronta, tempestiva e professionali alle esigenze dei clienti. Quanto ha inciso la pandemia? La pandemia ha inciso tanto, perché noi tra ormai tanti anni siamo specializzati nella fruttura di DPI, prodotti per l'igiene, disinfettanti, lavamagno e quant'altro, quindi siamo fatti trovare sempre pronti, a volte anche faticando alle esigenze di tutti i nostri clienti e di nuovi clienti che effettivamente ci hanno contattato per distribuire prontamente negli ospedali, nel caso di riposo, nelle cliniche e nelle grosse aziende tutti questi prodotti. Nel futuro vorrei conservare questi valori che c'erano di mezzo papà, i valori del lavoro, del sacrificio, vorrei conservare questo spirito, questo spirito che c'è di squadra tra noi e i nostri collaboratori per far crescere al massimo la nostra azienda e per essere sempre più riconosciuti come un riferimento nella distribuzione di ambienti, prodotti, della azienda e dell'igiene in tutto il territorio.